Buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati, nuova settimana sempre qui in diretta con Summer in the City, siamo qua per l'ultima settimana di Summer in the City, poi da giovedì ci trasfereremo in Fiera Milano al Mico per una quattro giorni di Campus Party, Fiera dell'Innovazione, saremo lì praticamente tutto il giorno, tant'è che anzi abbiamo anche una tenda per dormire all'interno della fiera perché questo è Campus Party, una quattro giorni, 24 ore su 24 fatto sull'innovazione e i Campusero, coloro che faranno parte di questa grandissima fiera di innovazione potranno anche dormire all'interno della fiera come faremo noi, ci cercheremo quindi in quelle sere. Ma prima di arrivare a Campus Party, beh Milano ci dà sempre tanto e molto di cui parlare e siamo alla seconda settimana della festa dell'unità del Partito Democratico proprio metropolitano, quello di Milano, la grande festa dell'unità che tutti gli anni c'è a Milano, c'è anche quest'anno, lo sapete bene, avete visto in un giro anche cartelloni affissioni e così, beh vogliamo parlarne un po' meglio anche per capire l'evoluzione un po' della festa dell'unità, da quella dei nostri nonni magari alla montagnetta di San Siro, io mi ricordo quelle di quartiere anche al Parco di Trenno ad esempio, ma ricordo uno della sezione locale, però insomma ha un senso ancora oggi, sicuramente sì e lo parliamo, ne parliamo proprio con qualcuno che di questa festa insomma si è data da fare molto, la sta organizzando e ci sta lavorando tutti i giorni. Sono qui con Silvia Roggiani, responsabile organizzazione del Partito Democratico, insomma seconda settimana di festa dell'unità, come sta andando e quanta fatica? La fatica è sempre tanta da parte di tutti, ma è anche uno dei periodi più entusiasmanti dell'anno per noi del Partito Democratico, quest'anno è ancora più sfidante perché abbiamo scelto di provare e tentare di farla a luglio, quindi abbiamo cambiato un po' il periodo che è sempre stato fino agosto, inizio settembre, abbiamo continuato con l'idea di farla in uno scalo ferroviario, quest'anno siamo allo scalo Farini, l'anno scorso eravamo allo scalo romana, il posto è molto suggestivo, davvero molto suggestivo e proprio la scorsa settimana durante la festa è stata approvata la delibera sugli scali ferroviari al Comune di Milano. Tutti gli scali verranno riqualificati e noi siamo lì quindi anche per dare un segnale a livello politico dell'impegno della Giunta e del Sindaco Sala su questi temi. Ecco, lo scalo ferroviario è stata una scelta, appunto già il secondo anno che fate questo tipo di scelta è il tema comunque del decennio, mi viene da dire, su Milano, nel senso che è la notizia della settimana, ha approvato in Comune questa intesa che insomma porterà ad avere degli scali fatti di verde, fatti anche sì di housing sociale per quanto riguarda ad esempio quelli verso il sud di Milano, però avete appunto voluto fare questa scelta di riscoprire per primi diciamo un luogo sconosciuto più ai milanesi anzi verrebbe da dire. Io sono stato già un paio di sera, un paio di dibattiti molto interessanti e davvero si scopre un mondo parallelo. Sì, assolutamente. Gli scali sono degli spazi spesso sconfinati, soprattutto quello di Farini è uno dei più grandi e sono degli spazi che vederli oggi e pensare a come diventeranno davvero fa sgranare gli occhi e anche a pensare a quello che c'è stato. Se verrete allo scalo Farini potete vedere ancora i cartelli, lì era uno scalo merci, ci sono ancora i cartelli dei punti di dove veniva scaricata la merce, quindi dove fermavano i treni provenienti da Bologna, dove fermavano i treni merci provenienti da Roma. Sono rimasti ancora tutti i cartelli che sono adesso nella zona dove noi abbiamo messo gli street food. Proprio sugli scali abbiamo deciso di chiudere la festa l'ultimo giorno, avremo proprio la domenica alle 18.30 un dibattito sugli scali ferroviari con l'assessore Maran, con i consiglieri comunali Monguzzi e Ceccarelli, perché come dicevano anche oggi i giornali, il consiglio comunale questa volta ha avuto un ruolo davvero importante per far arrivare in porto questa delibera. Ci sarà anche l'architetto Cino Zucchi e poi chiuderemo con Beppe Sala, ma qui magari lo teniamo per dopo. Sì, vero, ha chiuso appunto data al sindaco uno dei tifosi numero uno di questa cosa degli scali. Sala ci ha sempre chieduto anche in campagna elettorale e da tempo che continua a dire ha accelerato, anzi ha riuscito forse dove altri avevano avuto difficoltà, lui ha riuscito a schiacciare sull'acceleratore e farcela a portare a casa. Sì, assolutamente, gli scali insieme alle periferie erano tra i punti qualificanti del programma e possiamo dire che questa prima cosa l'abbiamo portata a casa e adesso poi possiamo quindi concentrarci su altro. Tra l'altro il tema delle periferie, che è un altro dei temi che ci sta a cuore, sarà anche qua soggetto di un dibattito con l'assessore Rabaiotti e tanti altri protagonisti, sempre questa settimana. Ecco, è un punto di parola, un luogo veramente fantastico, però vi farei un passo indietro. Allora, siamo nel 2017, Festa dell'Unità, insomma l'evoluzione un po' della Festa dell'Unità, la gente direbbe forse la Festa dell'Unità, forse 3.0 anche, neanche 2, siamo già oltre. Qual è il senso adesso, un senso moderno diciamo, della Festa dell'Unità? Cioè non è più quel luogo forse come una volta appunto dicevano i miei colori durante la Festa dell'Unità, anche di quartiere, c'erano le feste di partito, delle varie circoscrizioni. Che senso ha nel 2017 fare una Festa dell'Unità metropolitana a Milano in un luogo del genere e per la cittadinanza? Allora, quello che caratterizza il nostro partito di Milano è quello di voler unire tradizione e innovazione, quindi portare avanti quello che c'è di buono nelle tradizioni, ma provare a innovarlo e renderlo accessibile innanzitutto ai nostri iscritti militanti di oggi, ma anche ai cittadini che hanno piacere e voglia di avvicinarsi alla politica che comunque fa parte della vita di tutti i giorni di tutti, sia che lo vogliamo sia che non lo vogliamo. Il problema più grosso che riscontriamo qui a Milano, ma non è l'unica città, è il non avere dei luoghi che possano essere utilizzati da tutti, non solo dal Partito Democratico, per le feste. Quindi rispetto alle feste di una volta, quindi le feste della Montagnetta, piuttosto che quindi c'erano dei luoghi che anche a un costo accessibile si potevano essere utilizzati non solo appunto dal Partito Democratico, ma da tante altre realtà, questa cosa a Milano manca. Quindi dobbiamo ogni volta reinventarci e anche provare a rendere sostenibile economicamente un momento che come Partito Democratico vogliamo offrire innanzitutto alla nostra comunità, perché pensiamo che sia un momento di forte aggregazione per i nostri iscritti, i nostri militanti di tutte le generazioni. Se verrete alla festa dell'unità, in cucina si possono trovare le persone dai 75 anni che passano tutto il loro pomeriggio a friggere patatine e salamelle, ai giovani, anche diciottenni, anche alcuni ragazzini, ancora non maggiorenni, che tutte le sere vengono lì, che magari si sono appena avvicinati, ma trovano una comunità, un gruppo di persone con cui condividere le proprie serate, il proprio tempo in allegria. Nello stesso tempo vogliamo offrire alla cittadinanza dei momenti di approfondimento gratuiti e anche dei momenti di svago. Ci sono i DJ set, ci sono gli street food, quindi noi, è una sfida. Non c'è niente di scontato, anche nel 3.0 nel 2017, perché si fa fatica, bisogna confrontarsi col fatto che non c'è più il finanziamento pubblico, che appunto non abbiamo un luogo dove poter fare le feste, però noi vogliamo crederci, vogliamo... L'avete voluto voi che toglierlo, però... Sì, assolutamente, assolutamente. No, ma infatti è una sfida. A noi piacciono le sfide. Parlando di sfide, appunto, avete fatto anche una scelta abbastanza coraggiosa quest'anno, quella di non avere concerti all'interno della Festa Unità, che insomma era famosa nelle fassate edizioni per concerti anche di una certa importanza, sicuramente nel tempo veramente artisti di calibro quasi internazionale. Quest'anno avete puntato tantissimo, tantissimo sui dibattiti. Di un livello davvero alto, però. Sì, assolutamente. Poi è stato un crescendo e questa settimana davvero avremo un po' tantissimi ospiti d'eccezione che vengono a Milano. Partiamo al di là di tutti i dibattiti che potrete trovare. Questa sera, ad esempio, viene Costantino della Gerardesca, che ritorna alla Festa dell'Unità per presentare il libro di Nicodemo Disinformazia. Domani avremo Gori alle 21. Poi continuiamo il 19 con Lotti e Renzi alle 19.30. Il giorno dopo, consulto il programma, scusate, il 20 avremo Minniti alle 18.30 a parlare di sicurezza e integrazione con gli assessori Maiorino e Rozza. Anche perché se sbaglio tutte le sere tre dibattiti contemporanei intorno alle 18.30 e poi alle 21 ancora. E alle 21 altri tre dibattiti. Sono sei dibattiti a sera per 15 giorni, insomma. Assolutamente. Infatti mi dicevi Costantino della Gerardesca torna. Dopo bussolati è quello che più è lì, è Costantino della Gerardesca ormai allora. Sono in tanti. Comunque concludo anche col venerdì perché abbiamo la Pinotti, il ministro Pinotti alle 18.30, il ministro Boschi alle 20 e la sera a Pisa Pia alle 21 a parlare di reddito di inclusione. Per poi finire nel sabato e nella domenica, il sabato abbiamo Guerini alle 18.30 con la Gelmini, quindi anche qui un'altra delle caratteristiche della nostra festa che ci piace confrontarci non solo tra di noi. Tra di Gelmini, Pizzarotti, Pizzarotti, assolutamente. Comunque non della vostra sponda. Questa sera c'è un dibattito alle 21 sul lavoro con il capogruppo della Lega, Romeo e Icchino. Quindi non ci sottraiamo. Non vi sottraiate, anzi date forse la possibilità di vedere, secondo me è una cosa interessante anche questi personaggi che siamo abituati a vedere nei vari talk, di martedì, di venerdì, di giovedì, di tutte le varie trasmissioni, dove però insomma li vediamo solo urlare e dire la propria. Forse qui in una dimensione più umana, mi direbbe dire passando dal cinema al teatro, questo è più il teatro della politica, quello vero però, in una dimensione più umana forse finalmente riusciamo anche a capire le varie correnti, le varie idee, le varie idee che i politici vari hanno poi realmente sulla nostra pelle, invece di vederli urlare e basta. C'è un servizio secondo me interessante anche da questo punto di vista. Un'altra delle cose belle dei nostri politici è che alla festa dell'unità si riscopre il momento conviviale. Ieri sera la ministra Fedeli, dopo aver fatto il dibattito alle 18.30, si è fermata, ha ricevuto delle persone, c'erano delle delegazioni di persone che avevano voglia di incontrarla e parlare con lei dei problemi aperti e poi si è fermata a cena, c'erano due tavolate ed è stata disponibilissima fino alle 23 alla festa dell'unità per parlare con tutti. Ma non è l'unica davvero, tutti i nostri ministri vengono alla festa dell'unità ben sapendo che è l'incontro con i cittadini la cosa importante, infatti la prima cosa che fanno tutti è andare a salutare i nostri volontari nelle cucine, che sono quelli che forse fanno un po' lo sforzo maggiore al caldo a cucinare per tutti, tutte le sere, per 15 giorni. Milano ha fatto vedere, adesso però lo so, il coccato con le cucine magari un po' meno, però insomma di volontari, le famose magliette gialle del PD Milano ormai sono famose, devo dire che dai, è riuscita a tirarsi un bel po' di persone, di passione. Sì, sì, abbiamo 70 volontari a sera. Wow, ma vi aspettate di riuscire ad avere 70 volontari a sera. Io so la difficoltà che ci vuole a mettere in piedi una festa dell'unità, ho seguito da vicino altre, di altre zone, insomma, a volte c'è poco da fare, la gente manca, è difficile far avvicinare. Io penso che la chiave del successo di questa cosa dei volontari sia costruire un rapporto che dura nel tempo, noi non li chiamiamo solamente per la festa dell'unità, abbiamo una persona che segue i volontari, che è il nostro responsabile, quelli volontari, si chiama Lorenzo, e segue tutti i giorni, tutte le settimane, i volontari vengono coinvolti su tantissime cose, quindi non è la chiamata. Certo, se vengono chiamati spot una volta all'anno, le persone non sentono questa vicinanza, ma invece il rapporto è un rapporto continuativo che viene costruito nel tempo. E' una di quelle cose che allora viene chiamato modello Milano, forse anche questo, nel senso che sarebbe da dire, perché veramente è una peculiarità del PD metropolitano di Milano, giusto? Sì, è nata, c'è sempre stato il volontariato nei circoli, poi noi abbiamo deciso con il settantesimo anniversario della liberazione di dare a questo volontariato anche una connotazione valoriale, perché abbiamo voluto far un po' riscoprire i valori dell'antifascismo, della resistenza, facendo nascere Bella Ciao Milano, che è diventato un po' il nostro brand, poi anche con le magliette gialle, le magliette gialle sono state quelle che anche dopo le devastazioni prima di Expo sono scese in piazza per prime e siamo riusciti un po' ad aggregare la città, perché l'idea è che il partito democratico non è un partito chiuso attorno al proprio simbolo, ma è un partito che si vuole aprire, che vuole offrire delle esperienze, delle possibilità anche per chi non ha la tessera, ma ha voglia di far parte di questo gruppo. Esatto, giudici, tra i volontari avete gente non tesserata al partito? Assolutamente sì, abbiamo anche gente che magari è anche eletta in altri gruppi consigliari, ad esempio abbiamo una ragazza che viene sempre del municipio 8 e che si è candidata ed è stata eletta con la lista sala, abbiamo un altro signore che anche lui viene tutte le sere e è più spostato a sinistra, ha la tessera di MDP, però dice io comunque voglio venire qui e tutte le sere mi sento comunque parte. A proposito di gente che sta più a sinistra, a venerdì l'ex sindaco Pisapia viene a parlare di che cosa? A parlare di reddito di inclusione, un tema che per lui è importante e che anche noi abbiamo voluto assolutamente inserire nella festa, anche perché è stato uno dei successi a livello governativo del Partito Democratico e Pisapia ha scelto di intervenire in questo dibattito che comunque è in prima serata, il venerdì sera. Il segretario invece Renzi verrà quando? Il segretario Renzi viene il 19 alle 19.30, mercoledì. Aurario a posto per lo avete fatto. Viene insieme a Lotti. È la strada della serata, diciamo. Ecco, non sarà da solo, sarà... Viene insieme a Lotti e farà un giro e poi un saluto. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Allora, ricordiamo quindi precisamente le coordinate della... Perché abbiamo parlato ma non abbiamo dato le coordinate su Scalo Farini. Scalo Farini, via Valtellina 7, c'è un parcheggio interno gratuito, si può entrare quindi con l'auto ma anche con la bicicletta lasciandola sempre all'interno dello scalo. Altrimenti la fermata della metropolitana più vicina è Maciacchini. Un posto davvero bello, io lo devo dire. All'ingresso un po' magari uno rimane un attimino così... Sì, ma è vero. Forse è un po' straniato. Sparito, straniato. Questo spazio veramente immenso. Non ci si immagina neanche esista a Milano uno spazio così grosso, vuoto. Ma è davvero suggestivo. Poi una volta che entrate vi ritrovate all'interno di una struttura dove trovate tutto. C'è il verde, c'è il fresco, c'è la copertura qui, anche se il piove si può andare tranquillamente. Assolutamente perché è coperto. È aperto ma coperto. È aperto ma coperto. Questa cosa qui è strana da dire ma effettivamente bisogna andare per capire. È così, provare per credere. E davvero, abbiamo detto, una serie di dibattiti davvero davvero interessanti. Come si può fare? Io immagino comunque, insomma, sono stati due settimane difficili. Alla gente di venire a ascoltare un dibattito non deve essere facile. Far convincere la gente a venire a ascoltare altra gente a parlare in un mondo in cui sentiamo parlare tutti i giorni troppa gente, viene da dire. Come avete fatto a convincere, o meglio, a dare la curiosità alla gente di dire venite a provare a sentire? Perché insomma, visto che comunque i dibattiti dai primi, sempre più gente viene e quando vengono portano qualcuno, poi la volta dopo. Qual è la chiave per riuscire a incuriosire sempre più gente? Io penso che già il fatto che ci sia un'offerta così ampia sia importante. Nel senso che non è facile. A Milano ci sono tantissimi eventi. L'approfondimento politico spesso si vede più in televisione, non dal vivo. Quindi la nostra chiave è stata un po' quella di dare la vicinanza, di dire se vieni hai la possibilità di sentirli dal vivo, di fare delle domande, cosa che facciamo in tutti i dibattiti. Alla fine di ogni dibattito è possibile intervenire, fare delle domande, interloquire. Quindi è stato un po' questo, dare e spaziare, perché appunto la scorsa settimana c'è stato J-Ax che ha parlato di bullismo, c'è stato Costantino della Gerardesca. Questa settimana ci sono i ministri, ci sono libri, ci sono invece dibattiti più politici, dibattiti più sui temi, altri più ampi. Quindi differenziare e fare un po' un menu che possa andare bene per tanti. In dibattito finora che tu personalmente hai visto e ti è piaciuto di più al momento, qual è giusto? Ce n'è uno a cui... Non posso essere così di parte. Non può, non può. Tutti belli, dibattiti alla festa. È sempre così, è sempre così. Non si può dire se si vuole bene alla mamma o al papà, se vuole bene a tutti e due, quindi è uguale. Perfetto. Va bene, Silvia, noi siamo in chiusura. Io credo davvero di aver dato un quadro abbastanza completo e soprattutto mi piace questa idea che mi dicevi appunto della comunità, cioè che la festa sia un momento in cui non necessariamente solo chi ha la tessera di un partito in tasca si avvicini alla politica in generale, mi viene da dire. Poi ognuno può scegliere da che parte avvicinarsi alla politica, ci sono anche altre feste, si faccia il giro in tre feste, poi uno decide da che parte schierarsi. Ricordiamolo, i prossimi appuntamenti di questi giorni, ricordiamoli? Sì, allora, questa sera, come dicevo, abbiamo Costantino della Gerardesca che presenta disinformazia di Nicodemo e sempre alle 21 un confronto con tra gli altri Icchino e il capogruppo alla Lega Romeo. Domani abbiamo Giorgio Gori alle 21, il giorno dopo, mercoledì 19 alle 19.30, Luca Lotti con Demetrio Albertini e Matteo Renzi, giovedì 20 alle 18.30 il ministro Minniti che discute di sicurezza e integrazione con gli assessori Rozza e Maiorino, venerdì 21 alle 18.30 il ministro Pinotti, alle 20 il ministro Boschi e alle 21 Pisa Pia che parlerà di reddito di inclusione, sabato 22 alle 18.30 Lorenzo Guerini in un confronto con tra gli altri Maria Stella Gelmini sulla regione Lombardia e le prossime sfide, tra cui il referendum, alle 21 il ministro Martina e da ultimo, domenica 23, la riqualificazione degli scali con tra gli altri l'assessore Maran alle 18.30 e alle 21 chiudiamo in bellezza con Beppe Sala, il nostro sindaco, e Pizzarotti. Grazie mille per lo spazio e la disponibilità. Silvia, ci si vede alla festa, mi viene da dire, abbiamo ancora una settimana intera per andare a scoprire, io ve lo dico già, in primis per andare a scoprire un po' un luogo di Milano che non so quando mai poi rivedrete aperto e comunque così interessante come quello dello scalo terroviario Farini. Poi viene tutto il resto, viene che si mangia bene, che si beve bene, che c'è tanta gente e tanta compagnia e poi appunto grandi dibattiti, finalmente si può ascoltare e parlare di politica senza grandi urla, senza grandi interruzioni pubblicitarie, insomma direi che il menu è completo e non c'è motivo per non andare alla festa di unità. Questa settimana, l'ultima settimana, avete ancora tutto il tempo ogni sera, si apre che ora? Alle 6 e mezza? Si apre alle 18.30. 18.30, si sta lì fino alla notte tarda, quindi... Assolutamente, dopo mezzanotte. Si può fare anche rumore, tanto non c'è in giro nessuno, quindi insomma è abbastanza comodo come luogo anche per questo. Vi aspettiamo. Grazie davvero, allora ci vediamo alla festa. Grazie mille. Ci vediamo alla festa, grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questa mezz'ora, io vi do appuntamento oggi pomeriggio, ore 18, con i tre giornali di Milano All News e poi sempre Summer in the City, domani a l'una e mezza, sempre qui in diretta, parliamo di politica anche domani, domani dovremmo avere un trio, un sindaco, un presidente di consiglio comunale e un, e qui forse capirete, un assessore che tra le sue deleghe c'è anche quello all'antimafia, quindi insomma forse avete capito di che comune parliamo, è un comune qui vicino nell'Ovest milanese. Grazie mille a tutti quanti, ci vediamo questa sera 18 oppure domani sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci presto. A presto. Hot Tom, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. Grazie a tutti.